Io personalmente mi rendo conto che ha qualcosa di miracoloso il fatto che si possa campare, che si possa vivere con l'arte, ancora oggi dopo vent'anni mi stupisco, però sì è possibile, è possibile soprattutto lavorare sul proprio talento, su quella luce che ci è stata donata, ognuno di noi la ha dentro di sé ed è sepolta dalla cenere e quindi queste iniziative puntano a mettere in luce quello che è il dono che ognuno ha, chi sente di poter scrivere, di poter raccontare il mondo in cui viviamo ha una grande responsabilità secondo me e nello stesso tempo un grande privilegio.